e caccia aperta all'uomo che ha seminato il terrore e morte sulla Rambla a Barcellona giovedì scorso. L'unico membro della cellula jihadista ancora in fuga è braccato dalle polizie spagnole e francesi. Intanto la cittadina di Ripoli dove si era radicalizzata la cellula jihadista è praticamente sotto assedio nell'ipotesi che l'uomo possa esservi recato per trovare un rifugio. Solo che conviene con la Francia i controlli sono stati rafforzati per evitare che il fuggitivo sia già passato o quantomeno tenti di farlo. Intanto nella mattinata di ieri una folla di cittadini e di turisti hanno assistito alla messa per la pace organizzata nella chiesa della Sagrada Famiglia che doveva essere il primo obiettivo jihadista alla presenza dei reali di Spagna e del premier iberico Mariano Rajoy. Un ulteriore segnale della volontà della metropoli di tornare alla normalità è quella di non piegarsi alla logica e alla lotta del terrorismo.